grazie bud 19 e 4 mesi grazie mille grazie mille bello indovino indovinello che cosa mai bollerà in pentola se il ragù non pipia non è buono mannaggia la miseria mannaggia maestro può salutare zio peppino esperto di meteorologia e grande ficoniere e un grande maestro ciao zio peppino grazie mille per i 4 mesi ... stai così strana, non sei giudendo capo a me così cagnata, con questa ancora un'occasione a tua volta, volta, mi ne sto spettando sotto a casa, da questa bocca tutta a tua volta. Ok ma fai amore, facci ma ancora, guarda mi fai ammazzì, non mi guarda con questo occhio tuo fuso, non mi fai tutto geloso, stai tranquillo, non ci faccio più, vuoi capicare roppellino io, facci ma un bacio di peca, fammi un pezzo serio, fammi un pezzo serio, però, guarda, oh kawasaki, soldi sempre pochi, al benzina chidon, ma vissi già ci siamo? Eh, bravo. Posso fare io? Ha fallo tutto l'ultimo. Questa volta ti esce la pista, va bene. Questo linguaggio lo capisce, eh? Oh, basta giù. Eh. Ma che ha fatto? Ma come tutto quanto ha fatto io? ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi sono cucinato un sacco di roba da solo. Vodafone, sempre Vodafone, non piglia lì, non piglia lì. Noi non abbiamo rimasto dal tequila. La madonna. Con la W... Ehm, chissà la ricorda, signo. Allora, appena esci a sinistra... Non so, cazzo. Attiate, attiate, buon... Ma cia puttane, mamma da... Porco... Ma cia puttane, mamma da... Ma cia puttane, mamma da... Ma cia puttane... No, vai giù, no, 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 no... Ma cia... apri la pacca ragazzi non ci siamo a mano, ti chiamano la mazzangano guarda che è tutto buggato la boia non ci siamo a mano, ci mangia tutto l'acqua zitto, dovevo stare zitto, scusi non hai capito che è hit? ma che cazzo? mandami l'affanculo ma ma veramente fa così, mi hai dato pugni a me? e che mandi l'affanculo, la gente, così ma scusi, lei mi ha investito e l'ho fatta apposta, ti ho chiesto pure scusa ma scusi, lei mi ha investito e mi dà un pugno fai una bella cosa alza ste mani abbassa sta pistola alza ste mani ma fanculo, testa di cazzo, anche te vuoi morir ma che sei scello? rimane tu qua dentro? no no rimane chi? qualcuno che so se lo andiamo da io ma che fu l'affanculo? ma che c'è un pugno? ma che c'è un pugno? non l'ho visto ma che c'è pure l'uomo? ma che c'è un pugno? 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 sai questa macchina che sta a caffone? no fra cielo io tanto boh ma chi ha chiamato la polizia? ma che ne faccio? ma non possono ma non stanno scegliendo con la macchina scusa ma che stanno a fa? ma quelle power game ma che stanno a fa? ma quelle power game ma giù ma che stanno a fa? eh mo chiede che ne facci? ma che ci facci? sto fischendo su oddio cazzo mi sto cagando sotto no no cazzo mi sto cagando sotto no ma che cazzo? mi sto cagando sotto col codiglio schifo punto esclamativo prime in chat e poi fare la sabba graduita a questo canale stupendo fantastico goliardico io vi aspetto ahahah ok andiamo avanti ragazzi ok per forza emozioni per forza ma lo sto mettendo gta dio cane porco dio e mi fai mettere gta mannaggiamolo 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 ma sei ingriffato cespuglio co no mi sa che sei ingriffato l'amico tuo ah io avevo detto che noi stavamo mannaggiamolo ma le spendo per lo meno meno no non lo spendo i cieli e la terra o signore sono pieni di te i cieli e la terra o signore sono pieni di te e osanna e osanna e osanna e osanna porco dio ero di cazzo con ste cazzo di preghiere basta ma io voglio sentire più ok sono ateo non mi interessa e le vedi all'inizio a me ei sono e le vanno a ciò c'è a c'è